Con una produttività maggiore di circa il 70% rispetto alla precedente, la nuova centrale idroelettrica di Ussita rappresenta indubbiamente un investimento per il futuro che va a beneficio dell'intero territorio. L'inaugurazione ufficiale avvenuta alla presenza di diverse autorità politiche e religiose ha rappresentato l'occasione per il sindaco Morosi di ribadire l'importanza della centrale di San Simone sia in termini di bilancio, l'ultima finanziaria infatti stabilisce che il comune potrà vendere energia a 22 centesimi di euro a kilowattora che in termini ambientali. Anche ai nostri microfoni, oltre che sul palco del locale Cineteatro, finalità e ricostruzione storica delle vicende che hanno riguardato la centrale sono state spiegate in modo chiaro ed esaustivo dallo stesso sindaco di Ussita. Sergio Morosi, sindaco di Ussita, oggi per questa località è un giorno particolarmente importante. Viene inaugurata la rinnovata centrale idroelettrica di San Simone. Il comune di Ussita è un'anomalia a livello nazionale perché è uno dei pochissimi comuni che ha avuto sempre in proprietà delle centraline elettriche e l'ha mantenuta anche dopo la nazionalizzazione. In quel momento infatti ci fu la lungimiranza dell'allora sindaco Nicola Rinaldi, oggi vivente con 94 anni, che trovò le scamotage per evitare la nazionalizzazione sia della produzione che della distribuzione su questo territorio. Da qui è nata una piccola storia dell'Italia minore dove questa risorsa che è locale è stata mantenuta dalla comunità. Oggi inauguriamo la terza generazione di macchine, abbiamo rinnovato completamente tutte le macchine di questa centrale e questo ci fa sperare che almeno i nostri bilanci da adesso in poi tornino in una serenità che per i piccoli comuni ormai sta diventando quasi un'angoscia. Questi aumenti di potenza e quindi questa possibilità di sfruttare meglio le risorse hanno una serie di incentivi e questi incentivi stanno arrivando. C'è stato dato il primo decreto, dobbiamo aspettare il regolamento di funzionamento di questi incentivi, ma ci danno una boccata di ossigeno notevole per la nostra finanza comunale e per poter assicurare da qui i servizi alla comunità e a tutti i cittadini che naturalmente sono abbastanza svantaggiati a vivere in queste zone qui di montagna. Quando lei parla di incentivi si riferisce alla Regione Marche in particolare? Abbiamo avuto due tipologie di incentivi. La Regione Marche ci ha dato un contributo, c'è stato un investimento che è di circa 560 mila euro. La Regione Marche è intervenuta sempre con uno dei bandi delle fonti rinnovabili e quindi abbiamo avuto un incentivo dell'ordine di 90 mila euro. Ma quello più grande di incentivo è che questa energia, a differenza di quella prodotta precedentemente, possiamo venderla per 15 anni a un prezzo omnicomprensivo che è di 22 centesimi a kilowattora e questo è naturalmente un prezzo molto più elevato di quello che fino a ieri per la precedente produzione avevamo, che era di circa dai 6-7 centesimi. Per quella che era la precedente continueremo a percepire all'incirca 6-8 centesimi, mentre per questa nuova in più avremo 22 centesimi a kilowatt, che è una differenza che ci consente di affrontare serenamente questo investimento e programmare, siccome il Comune è anche proprietario di altre centraline, altre due proprie e un'altra insieme ai Comuni di Visso e Castel Sant'Angelo, anche programmare in futuro un rinnovo delle macchine su tutte le centrali. Sebbene l'aver rinnovato la centrale idroelettrica di San Simone sia già una cosa eccezionale per un Comune di queste dimensioni, l'amministrazione comunale di Ussita prevede di arricchire le iniziative per l'intero territorio? Ma questa è diventata sia una passione che è stata trasmessa a questo sindaco dal precedente famoso sindaco, sia il seguire oggi quella che è l'evoluzione di questo tema delle energie e soprattutto delle energie in queste piccole realtà di montagna che ci fa muovere proprio su questo settore. Fra l'altro una novità importante è quasi una prima iniziativa promossa dai tre Comuni dell'Alto Nera, Ussita, Visso e Castel Sant'Angelo insieme, per ottenere dall'Acquedotto del Nera, il Consorzio Acquedotto del Nera, che è il Consorzio che porterà la più grande risorsa di acqua ancora disponibile nella Regione Marche, da queste zone che sono state da noi preservate al mare, quindi a tutte le cittadine del mare, i comuni di questa zona hanno chiesto ma con forza che non vogliono nulla, anzi hanno degli danni perché noi abbiamo una centrale a valle che gli viene tolta dell'acqua e in cambio però chiediamo di poter sfruttare tecnologicamente il tubo dell'acquedotto. Oggi questo significa che siccome l'acquedotto parte da circa 750 metri d'altitudine e scende fino alla costa a quota zero, di poter sfruttare due o tre punti dove ci sono dei salti di una cinquantina, cento metri massimo per mettere le centraline elettriche e un domani avere anche la possibilità di utilizzare questo tubo per tutte le applicazioni tecnologiche saranno possibili, ad esempio le fibre ottiche che qui arrivano con una lentezza assurda e naturalmente non è escluso che un domani un piccolo cavo possa viaggiare dentro l'acquedotto che è una capacità di trasporto oltre anche a quella che è l'acqua che è possibile e senza dover fare uno scavo che dal mare arrivi qui possa agevolmente ricondurci in queste zone un servizio che altrimenti sarebbe quasi tecnicamente impossibile. Questo è un discorso di patto che si vuol fare fra la costa e l'entroterra perché queste zone tutto sommato non stanno altro che cercando non il sussidio ma una capacità economica di stare sulla nostra società di oggi, questa possibilità di starci passa attraverso tante cose e il settore dell'energia è forse quello che ha anche la possibilità di dare a queste zone un minimo di futuro. Grazie.